Le sacre liquidi San Calogero, provenienti dalla città di Frazzanò, in provincia di Messina, dove sono conservate e custodite, sono arrivate ieri a Favara. A volerle, nella città dell'Agnello Pasquale, Don Michele Termine, parroco della chiesa dedicata a San Calogero e da tutto il comitato, che per l'occasione ha preparato una bella accoglienza. Proprio il tema dell'accoglienza è stato il filo conduttore dell'intera giornata dedicata al Santo Nero. Ad accogliere le sacre reliquie il sindaco Antonio Palumbo, la presidente del Consiglio Comunale Miriam Mignemi e tanti, tanti fedeli. La processione ha avuto inizio dalla piazzetta Kennedy con le reliquie portate a spalla dai componenti del comitato, quindi l'alternanza con la Croce Rossa italiana, gli scout e infine con un gruppo di ragazzi immigrati per rimarcare il tema della solidarietà e dell'accoglienza. Quindi l'ingresso in chiesa dove la teca, con le sacre reliquie, è stata esposta per tutta la giornata accanto al simulacro di San Calogero, meta di un continuo pellegrinaggio da parte di tanti fedeli. Un momento importante per la città di Favara, come evidenziato da Don Michele Termine. Un momento importantissimo perché la venerazione delle reliquie ci permette di capire veramente che cosa significa essere santi, avere il Signore nel cuore. E queste ossa, che sono state le spoglie mortali, che sono le spoglie mortali di San Calogero, ci permettono di capire che è possibile diventare cristiani, diventare santi come lo è stato San Calogero. Perché San Paolo ce lo ripete e ce lo dice, non sono più io che vivo, ma Cristo vive dentro di me. E allora noi credenti, come San Calogero, come tutti i santi, dobbiamo far vivere il Signore dentro di noi per diventare tempio dello Spirito Santo. Ringraziamo tutta la comunità per l'accoglienza e per la partecipazione. A trasportare le spoglie di San Calogero, le reliquie, diverse associazioni, a significare veramente l'attaccamento di tutta la città per questo santo. L'attaccamento di tutta la città, come ha detto bene lei, è naturalmente anche il senso dell'accoglienza e nel dire con tutto il cuore che Favaro è una città accogliente e naturalmente tutti hanno accorto le reliquie del santo. Soprattutto per tutta la città perché veniamo dal periodo in cui la comunità ha poco occasione per stare a sere. Oggi con questa occasione per il messaggio di San Calogero e con la prima di queste reliquie, la comunità è riunita in una maniera bella. Si fa e si riportano avanti quelle che sono le tradizioni, la cultura del nostro essere. Come dicevo poco fa, tra l'altro San Calogero ci dà anche l'esempio dell'accoglienza, della natura accogliente e generosa del nostro mondo. Assolutamente, per noi è un grande onore, per me poi da credente, per ricevere nella nostra comunità le reliquie di San Calogero. È veramente un momento emozionante e che sicuramente serve sempre di più per aggregare la nostra comunità che da tempo purtroppo non ha più assistito a delle feste dedicate ai santi. E quindi oggi per noi è anche un momento di rinascita da questo punto di vista che è stato veramente emozionante poter percorrere insieme le mie cittadine assieme alle reliquie di San Calogero e poter festeggiare insieme. E dopo la festa di San Calogero avremo anche la festa di San Giuseppe. Quindi ci sono veramente dei momenti che grazie anche alla chiesa, grazie anche a cui si impegna con i vari comitati, finalmente possiamo vivere tutti insieme in armonia. Grazie.